Grazie a Marcello per l'invito e grazie a DigitalTri per averci ospitato. Quando Marcello mi ha chiamato mi ha detto fai un workshop tecnico, mi raccomando, molto approfondito, molti tecnici. Poi mi ha chiamato Edoardo e mi ha detto mi raccomando, divulgativo, manager, sii generalista. E quindi cercherò di fare uno simor oggi, quindi un interessante workshop semplice e superficiale. Quindi è un po' un salto triplo carpiato. Innanzitutto mi presento per cui mi conoscono, io sono Fabrizio Cardinali, sono abbastanza a sudietà da aver vissuto un po' tutte le ondate di intelligenza artificiale. Mi sono laureato con Gaglio, ho scoperto che è tuo collega nella commissione, quindi ci sono un paio di nomi. Gaglio sicuramente è uno di questi, altri poi come a Tardi o altri sono un po' l'intelligenza artificiale italiana. Quando noi facevamo intelligenza artificiale era un'intelligenza artificiale, logica, prolog, list machine, completamente diversa da quella attuale. Però non è detto che non ci torniamo su quei trend e su quei banchi. In realtà io sono un imprenditore, quindi mi interessa la tecnologia ma poi cerco di farci i soldi e di sopravvivere in Italia, dove sicuramente gli scenari non dico che sono opposti a quelli che abbiamo sentito prima ma sono sicuramente distanti. E in certi punti dico meno male perché sentirmi dire facciamo le cose e poi vediamo se eticamente sono valide, se lo faccio nel marketing mi va anche bene, se lo faccio nella medicina, nell'industria e in altre cose forse è un po' più opinabile il tema. Comunque io sono di fatto uno start-upper, per Paolo che è qua con noi oggi ho messo quello di Genova Ricerche che di fatto quelli forse un po' più di età se lo ricorderanno, io vorrei dire è stato il primo incubatore a Genova e la rete di consorzi di città ricerche sono stati i primi in Italia, quindi già negli anni 90 con Liri che faceva un po' da mamma padrona che però aveva un giusto attitudine di chiamare le grosse aziende a investire. Cioè quello che manca un po' oggi negli incubatori ma sta cambiando è l'investimento diretto della grossa industria. Noi con alcuni contest, con una delle società che fa parte del nostro portfoglio oggi che è SmartTrend, abbiamo vinto in Ansaldo che ci ha dato una commessa, abbiamo vinto in Irene che ci sta dando una commessa, quindi sta partendo questo trend che secondo me è veramente l'anello di congiunzione che manca in paesi in cui il capital venture non esiste, quindi è inutile che ci facciamo dei sogni in California fai 10, il giorno dopo vale 1000 perché c'è una catena del valore che esiste perché ha capito che investendo su 1000 startup basta che una diventi Google, in Italia questo non esiste. Però esistono le grosse aziende, quindi probabilmente l'unica via di futura è quella di un maggiore ingaggio delle grosse aziende che tra l'altro trovano un know-how pazzesco, cioè non so se voi avete fatto qualche contest ma fino a ieri davano i soldi alle big four o alle big five del consulting per farsi dire due o tre cose che bene o male o già sapevano o le hanno soltanto sapute un po' meglio. Oggi in questi contest c'è un sapere che mille volte è quello che gli può dare una big consulting firm e ad oggi gli viene dato gratis, nel senso che in questi contest uno va lì, gli dice tutto quello che sa e poi spera che ci siano delle commesse di follow on. Quindi appena queste commesse invece inizieranno secondo me ci sarà veramente il boom di start-up anche in Italia che oggi è abbastanza sottodimensionato. Ho fatto sempre digital start-up con grossi gruppi come il gruppo A che probabilmente qualcuno conosce di Baltimora che è leader mondiale per le risorse umane, quindi l'accezione è sempre stato quello sull'HR, col gruppo Giunti a Sesti Levante eravamo arrivati a circa 200 persone con circa 15 milioni di dollari di fatturato nel mondo nel content manager, abbiamo assunto Marinucci e l'abbiamo mandato in America che era quello che diceva essere il capo del signore di prima. Quindi abbiamo vissuto queste ondate e poi tornando indietro e poi oggi si spera di andare più avanti. Oggi di fatto faccio il business angel che è una cosa che l'ultima finanziaria sdoganata, fino a ieri quando gli amici dicevo sono un business angel, mi prendevano per ecclesiastico col nome e tutto, quindi era abbastanza un mischione, oggi la finanziaria sancisce che il business angel è un elemento fondamentale della catena del valore, cioè quello che va a scovare le start-up e gli dà quello che in Italia si chiama pre-seed o seed, in realtà sono ordini di grandezza molto limitati che però permettono alla start-up di partire, fare le prime implementazioni e fare i primi sviluppi. Abbiamo a portfoglio, perché siamo poi un network di investitori, per ora 5 start-up che sono oltre a NoEdge, SkillAware, SmartTrack, MyWay che è incubata qua e che sta facendo uno smart speaker di intelligenza artificiale e blockchain on edge, di cui poi parleremo estensivamente che oggi magari questo termine non vi dice poco. E WaveNure che invece incominciamo a esportare il nostro know-how, è una start-up che fa un chatbot per gli investimenti finanziari, quindi idealmente senza soluzione di continuità con quello che abbiamo sentito prima che però è incubata nel Sella Lab a Copernico, il FinTech District di Milano, quindi stiamo incominciando ad espandere il nostro area di azione. In realtà siamo una società di consulenza, quindi oltre a fare investimenti nelle start-up quello che facciamo è cercare di capire l'open innovation, un po' come diceva prima fa oggi Mind the Bridge, dove però la nostra accezione è essenzialmente quella dell'uomo al centro di tutto, cioè capire come queste tecnologie esponenziali non servono per sostituire l'uomo ma per aumentarne le potenzialità, l'addestramento e la safety. Quindi essenzialmente lavoriamo per grosse aziende per capire come la new machine economy permetta di migliorare le performance umano e aumentarne le caratteristiche. Come dicevo siamo qua con una start-up incubato in Digital Tree, abbiamo oggi tre colleghi che sono là in fondo, che poi sulle domande mi aiuteranno perché sono molto più tecnici di me, Giancarlo Bo, esperto di microservizi e di service oriented architecture, ex Juntilabs, quindi mio collega e di Marinucci di lunga data, Luca Marchese è un ex Ericsson, quindi embedded software, che poi vedremo è la chiave di volta del messaggio che daremo, il mettere l'intelligenza, il blockchain e altro sui periferiche, sui macchinari, che poi avremo anche degli esempi da farvi vedere, e Andrea De Camilli che è laggiù, che è il più tecnico di tutti noi sulla parte blockchain, DLT e IOTA. Campionando un attimo, chissà cos'è IOTA nell'audience, chissà cos'è una rete neurale, ok, chi è tecnico, pensa di essere tecnico, ok, molti più di prima, infatti quando l'ha detto prima mi sono preoccupato perché un minimo di tecnologia, era poi l'input, quindi l'abbiamo interpretato, e alla fine, se abbiamo dieci minuti, vi faremo vedere comunque questo che è la tecnologia che stiamo sviluppando qua dentro, che è questa piramide sulla sinistra per i liberi professionisti o quella box per l'industria 4, che ha intelligenza artificiale, blockchain e riconoscimento della voce locale, quindi non devi mandare i tuoi dati, i tuoi algoritmi e di fatto il tuo business in quelle famose società di prima che stanno esplodendo, che l'FDA regolamente in maniera molto lasca, cioè la cosa drammatica che i brevetti in questo momento in America e le certificazioni FDA le stanno regalando, per cui se tu in Italia non fai un algoritmo che riconosce l'Alzheimer su un attacco piuttosto che una retinopatia su una vista ottica, in Italia non te la regolamentano, in America sì, peccato che poi allora vai a fare il business in America e dall'America che offrirai i tuoi servizi in Europa e in Italia, saltando il problema etico di verificare anche la scientificità di certe cose. Per cui questo è il messaggio che Edge permette di tenere in locale molte di queste competenze. Facciamo Open Innovation, due ultime slide su No Edge, poi andiamo in verticale su quello che è Edge Computing, AI e blockchain sulla frontiera, sull'Edge. Quando parliamo di Open Innovation, che è quello che noi oggi diciamo di fare, in realtà noi siamo una società di ingegneria con i colleghi, quindi siamo dei colleghi che andiamo lì, capiamo il problema della grossa azienda, glielo risolviamo coinvolgendo delle start-up e poi cerchiamo di fare da ponte. E se questo ponte non riusciamo a farlo, ci infiliamo noi ad aiutare il business development della start-up. Però ci sono delle componenti, peccato che si lega molto male, che è fondamentale oggi nell'Open Innovation, che a Genova, in Liguria e in Italia mi piace evidenziare. Innanzitutto si parla di cost-effective research and development, engaged customers, co-creation e minimum risk. Cioè il concetto che oggi io devo poter fare innovazione con dei cicli, dei costi e della velocità di un ordine di grandezza superiore a prima. Cioè non deve costare centinaia di migliaia di euro e mesi e mesi di sviluppo, sperimentare un nuovo algoritmo, AI, sperimentare una nuova periferica IoT, provare il blockchain, ma deve essere tutto molto più accelerato. E l'altra cosa è che non è detto che l'obiettivo sia solo quello di risolvere i problemi della mia azienda, ma quello di capire come degli spin-off possano poi creare dei mercati ancora più significativi di quelli da cui vengo. L'altro tema premessa prima di fare il deep dive è tecnologie esponenziali. Cioè quello di cui stiamo parlando oggi non è CRM, non è IRP, non è la digital transformation di cui tanto parlano in Italia, ma che è ancora vecchia. Quindi la trasformazione digitale che molte aziende oggi in Italia stanno avendo consulenza su marketing e su come farla, per molti oggi è mettere online e cominciare ad aprire dei siti e dei servizi. In realtà la digital transformation di cui stiamo parlando oggi è quella esponenziale. Cosa vuol dire esponenziale? C'è questa storiella che probabilmente conoscono tutti perché l'ha usato addirittura Dante per spiegare il numero di angeli nel cielo. L'ha ripresa a Cursail che oltre a essere il capo dell'ingegneria di Google è un futurologo famoso che narra che quando fu investata gli scacchi, c'è chi dice presentata all'imperatore indiano, c'è chi dice a uno sha persiano, questo fu così contento del risultato e così appassionato del gioco che disse all'inventore di esprimere che cosa volesse in premio. La storia vuole che questo che era un matematico gli disse ma guarda dammi un chicco di riso sulla prima punto della scacchiera e ogni volta che passi a quello vicino lo raddoppi. Questo ovviamente non matematico ma imperatore disse vabbè uno, due, quattro, otto incominciava a fare questi ragionamenti qua ma sì sì cosa vuoi che ci voglia. Salvo poi scoprire che questa che è una progressione matematica implica che praticamente nella prima parte della scacchiera quindi quando arriva 1 alla 32 ci vuole praticamente il monte Everest di riso per ripagare quella persona e quando passo nella seconda parte della scacchiera che è un termine che si sta usando molto oggi per dire quanto stiamo accelerando perché siamo passati ormai nella seconda parte della scacchiera ci vuole praticamente il globo terraqueo riempito da qua la luna di riso per poter ripagare questo pegno. Tant'è che oggi se vai in India ti regalano un riso in alcune città del nord proprio memory di questa storiella perché c'è ancora il pegno di dover restituire questo riso. Questo per dire che cosa? Che la famosa legge di Moore che raddoppia non ogni anno ma ogni 18 mesi se voi fate il conto più o meno sono passati 32 anni dall'invenzione del transistor quindi stiamo passando nella famosa seconda parte della scacchiera cioè stiamo entrando in un'era nel quale il raddoppio annuo della potenza di calcolo, della potenza di storage, della potenza dell'informatica in generale sta arrivando a dei volumi di accelerazione inconcepibili e incompresi e forse anche difficili da gestire dall'essere umano. Abbiamo un'accelerazione appunto esponenziale. C'è però fortunatamente forse il fatto che la legge di Moore sta incominciando a dimostrarsi non così vera nel senso che negli ultimi 4-5 anni non c'è stato più il raddoppio di velocità ma c'è stato il raddoppio della diminuzione di dimensioni. Cosa vuol dire? Diventano più veloci e più performanti i computer ma diventano sempre più piccoli. Sempre più piccoli vuol dire che ci dobbiamo inventare un mondo e un mercato per andare a vendere computer sempre più piccoli perché se io lo uso così come laptop che sia grosso come un'unghia non è che me ne frega niente. Per quello che è stato inventato l'IoT. Quindi l'IoT che è l'internet delle cose che ha avuto il boom molto recente è sia dovuto alla legge di Moore ma anche alle leggi commerciali che ne sottendono perché un Intel, un Nvidia e altri produttori di hardware per poter sopravvivere hanno dovuto lanciare questo mercato. Un mercato che sta di fatto esplodendo e che sta diventando molto interessante perché il fatto che io non solo ho una dimensione sempre più piccola ma incomincio ad applicarlo sempre di più su altri mercati. Quindi c'è un discorso di cross boundary, quindi di cominciare a muovermi anche su altre frontiere e c'è un discorso di circolo virtuoso e virtuale di generazione di nuove competenze, nuovi prodotti e nuove know-how con una crescita esponenziale. Qui non leggete ma ci sono tutti i nuovi mercati dalla connected insurance. Cioè in generale appena ho aperto una società che si chiama Geniot che vende la connected insurance. Cioè fino a sei mesi fa, un anno fa questo non era previsto, oggi anche le grosse stanno incominciando a usare l'IoT e l'AI per differenziarsi sul mercato che hanno intuito avrà rapidamente uno sviluppo dove il gap che si misura qua in fondo, che è l'exponential gap, è enorme. Cioè se tu perdi un anno o due o tre con la tua concorrenza non è più una differenza lineare ma una differenza che andrà alla luna molto molto velocemente. Quindi riassumendo prima di diventare più tecnici, questa nuova digital disruption che chiamiamo the next digital revolution, che guarda bene non è quello che vendono tante società di consulenza in Italia che sono ancora fermi alla prima rivoluzione digitale in cui ti dicono porta online, apriti il sito, mettilo su cloud e lì è finita. Stiamo già parlando di una seconda rivoluzione digitale che sta avvenendo mentre parliamo che è quella sulla destra dove qua non si legge ma c'è IOT, blockchain, edge e intelligenza artificiale. Quindi più o meno sapete cos'è l'IoT, probabilmente l'intelligenza artificiale anche oggi parleremo anche molto di edge e di blockchain per cercare di spiegarlo meglio. Vedete che la grossa differenza è che qua l'uomo era naturalmente al centro, cioè Netflix vende a un uomo, i social sono uomini che parlano con uomini, quindi l'uomo era comunque al centro di quella rivoluzione, la rivoluzione che invece c'è al centro in questa nuova ondata che si svilupperà probabilmente nel prossimo a dozzina di anni è la macchina. Quindi transazioni macchina a macchina, intelligenza sulla macchina ed è la macchina che diventa improvvisamente un ente importante o per collaborarci o per competirci o per farci della collaborazione costruttiva e anche competitiva sul luogo di lavoro. Saranno tecnologie esponenziali, saranno tecnologie combinatoriali che si combinano fra loro, saranno tecnologie olistiche nel senso che non andranno solo a impattare i processi, il software, ma le risorse umane e di fatto tutti i processi nell'azienda. Quindi l'azienda dovrà rapidamente riengegnerizzarsi e ripensare tutti i suoi workflow e tutti i suoi processi verso un'industria al quadrato più che 3, 4, 5.0 e infine sarà regolamentata. Cioè questa è una chiave di volta fondamentale che le economie si differenzieranno tantissimo a secondo o meno che regolamenteranno questi mercati e che li regolamenteranno outbound per andare a vendere ma anche inbound per evitare che vengano a venderti se tu li hai regolamentati, poi sei in Irlanda e hai aperto il cloud dall'America, come fanno tutti e dai una second opinion medica dall'Irlanda e glielo lasci fare è drammaticamente un grosso problema rispetto all'aver chiuso il mercato nazionale perché magari non è etico lasciare fare a un chatbot una diagnostica medica di immagini eccetera eccetera Veniamo ora alla parte più tecnica quindi abbiamo capito che il boom nasce dall'IoT cioè dalla necessità di vendere sempre più informatica hardware che si è ridotta tantissimo di dimensioni meno di potenza ma che ora può essere in qualunque cosa, in qualunque oggetto si parla di 50 miliardi di macchine che nel 2025 avranno un'informatica processabile a bordo ci sono mille video, avrei potuto sceglierne mille ho guardato quelli del CES che forse conoscete essere un po' il Sanremo della computer electronics a Las Vegas, è appena finito una settimana fa e questo è il video che ha lanciato Bosch ora fatevi un attimo la forma mentis di Bosch che cosa vi viene in mente? il teutonico ingegnere tedesco che produce il mega macchinario industriale che fa il mazzo all'amarelli che lo fa le grosse aziende italiane e che da tedesco ha pochissima creatività e pochissimo know-how su come poterlo farlo ecco questo è il loro commercial per il CES I start my days, sun rays I tap the phone, coffee's on I mow the lawn, impressing shots So connected, so effective I let it drop, clean it up Heat it smart, I do my part Get in the car, superstar They're watching me, IOT IOT, 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 IOT I check my stock, what a shock Buy some prawn, my oven's on Coming home, future zone All for me, IOT, 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 IOT Live like a Bosch With many connectivity solutions for a smarter future From Bosch Allora qua ha creato meno ilarità perché non conoscete forse Like a Bosch Like a Bosch che è un tormentone che è su tutti i viral americani perché l'hanno presentato a Saturday Night Live che è un po' come il porta aperta a loro e poi l'originale di questo filmato è conosciutissimo in America e loro l'hanno cavalcato per dire come Bosch sta cambiando strategia per invadere grazie al suo nau di sensoristica e di machine che ha fatto fino ad oggi questo mercato consumer in maniera molto più aggressiva Ma veniamo a noi quindi se parliamo di 50 miliardi di oggetti abbiamo due problemi il problema di controllo di questi oggetti e il problema di consistenza, persistenza e serietà trust, per dirlo con la parola di moda oggi di questi dati cioè come faccio a controllare questi miliardi di macchinari e come faccio a essere sicuri che i dati non sono hackerati non sono rovinati e quant'altro da lì nasce lo stack IoT cioè incomincia a trasferirsi dal cloud il potere verso il territorio locale IoT questo è un mercato che è partito direi da 4-5 anni al massimo ma abbiamo già 850 piattaforme IoT Flarebit è una delle più note localmente i ragazzi ne avevano sviluppato un'altra prima in Abodata che è stata venduta a SAP cioè una società ligure che è partita due anni prima di quel mostro di nomi lì lo ha fatto abbastanza bene è arrivata a SAP non SAP Italia o Europa SAP Globo e l'ha comprata a Genova questo per dire che e questo know-how viene dal machine to machine industriale che fa parte del DNA ligure cioè quelli che hanno fatto i PLC dalla Orsi a Lansaldo a tutti i miei amici di SEDAP a Elasoft e quant'altro avevano quel know-how quelli che non sono stati fermi ai PLC ai 7 bit per comandare le macchine con protocolli proprietari ma hanno capito il mondo che stava arrivando a IoT lo hanno accelerato lo hanno fatto e questi esempi due che ho citato Flarebit e Abodata sono due realtà una del passato di proprietà e una di presente di proprietà ligure che secondo me sono un ottimo esempio di come un know-how industriale applicato sull'ultima tecnologia ti fa fare i soldi e te li fa fare molto molto bene come si fa a fare una piattaforma IoT? questo è Hewlett Packard di nuovo di quegli 850 ho preso il nome che è quella che era rimasta più indietro nella seconda ondata digitale di cui parlavamo prima cioè Hewlett Packard la davano per morta come Honeywell come altri adesso sta vivendo una seconda giovinezza perché si sono messi a fare l'IoT perché ne avevano tutto lo know-how e il concetto è che oltre al cloud che è l'IoT ma quindi tutta la parte di data center di know-how per come si fa a cloud ci servono altri tre livelli quello finale che è come si fa a collegarsi con i sensori e in mezzo l'hardware e il software per fare da gateway su questi sensori lo vedremo poi in funzione se abbiamo tempo questo oggetto di Bosch che diventa poi in un video molto più tecnico e serio costa 150 euro ha 10 sensori umidità, temperatura girostato, presostato e lo comandi da un palmare o lo comandi da una blockchain o lo comandi da un'intelligenza artificiale questi oggetti qua oggi stanno invadendo il mercato e tu puoi di fatto cambiare la supply chain quindi la supply chain non ti dice più io ho messo il frigo a meno 10 per il pesce mentre lo trasportavo lo misuro lo passo al cervello che magari è su cloud lo pubblico su blockchain perché voglio essere sicuro che non sia una mia interpretazione di quel dato perché è ovvio che se io sono la frigor gelo ti dico che l'ho messo a meno 10 ma come me lo certifichi con una blockchain che invece ti mette una sicurezza del dato parlando direttamente con la macchina cioè non c'è un'interfaccia in cui uno mette 10 gradi è proprio misurato sul campo da un oggetto di questo tipo questo per dirvi che questo è un prodotto commerciale noi l'abbiamo comprato in America perché in Europa non si trova più con la dogana che ci ha fatto neri però il concetto è che queste cose qua stanno veramente galloppando assieme a tutte le altre di cui abbiamo parlato prima cos'è quindi importanza quando vado sul ledge sul sensore latency quindi velocità quindi vado a secco io non è che mi posso collegare al server americano e aspettare il suo feedback ho un paio di ordini di grandezza di mission critical maggiore cioè la velocità di ritorno la latenza deve essere molto più elevata bandwidth quindi il concetto che io devo dare tutte i sensori le informazioni in tempo reale ci vuole un certo suo bandwidth il costo di queste conazioni il frets quindi il problema di essere hackerato a livello di sensore telecamera o quant'altro le liability compliance ecco tutte quelle 850 piattaforme in una maniera o nell'altra hanno queste funzionalità e chi oggi ha un'industria deve fare un benchmark di queste centinaia di piattaforme per decidere quale dotarsi per poter fare questa infrastruttura le cose che hanno ancora queste piattaforme a livello di edge ce l'hanno a livello di cloud sono essenzialmente due che è quello su cui focalizziamo oggi il workshop intelligenza e fiducia trust del dato non sul cloud remoto ma localmente nell'oggetto che diventa intelligente quindi edge computing è tutto sul concetto di mettere intelligenza e certificazione del dato non triangolando su un cloud remoto che chissà dov'è e da chi è posseduto ma localmente in modo da poter tenersi il know-how tenersi i dati tenersi il business perché poi è quello che noi daremmo se gli diamo i dati a qualcuno che ce lo fa e infine essere GDPR compliant perché i due articoli della GDPR che stanno creando dei problemi agli americani industriali che se ne diceva prima è che in maniera molto alla commissione europea in maniera generica dice che l'utente ha il diritto di sapere dove sono i suoi dati e ha soprattutto il diritto di sapere quale elaborazione viene fatto su quel dato lì quindi se io non ho una trasparenza e un controllo di quei dati lì sono in brici della GDPR allora i due temi di cui parleremo oggi come faccio a trasferire l'intelligenza sull'edge e come faccio a trasferire il trust e quindi la blockchain sull'edge ci siamo fino a qua vi sembra il taglio giusto meno tecnico più tecnico fermatevi chiedetemi ovviamente se quanto serve allora tutti hanno detto cioè tutti mi sembrava fossero tanti che hanno detto di sapere cos'è una rete neurale ora io sono ingegnere non sono matematico e sono un manager non sono un tecnico quindi il taglio che darò a questa spiegazione è quello che ha bastato a me ed è il massimo che so se volete saperne di più poi c'è anche gente sia nei colleghi che nell'audience che ne sanno molto di più comunque per capire che tipo di intelligenza perché questo è il tema mettere su questo oggetto qua bisogna capire come funzionano le reti neurali le reti neurali sono per definizione una cosa che emula il neurone umano ovvero sia ha dei segnali di input ci applica e questo è fondamentale dei pesi e alla fine c'è una funzione che permette di generare l'output questo è un neurone che poi a livello transistoriale è una cosa che i colleghi di Ericsson mi confermeranno essere molto semplice è una cablatura di un oggetto che poi in mezzo ha una funzione di trasporto che diversi componenti informatici possono emulare quindi se io devo ad esempio prevedere il costo di un appartamento a secondo del metro quadrato quindi su x io ho il numero di metri quadrati e su f di x ho il costo quella è una funzione che è a lineare vedete assomiglia più o meno una linea e quindi io posso dire posso incominciare a indovinare come essere umano se più o meno il costo di quell'appartamento le dimensioni di quell'appartamento è fra 10 e 20 che è quel punto x1 stimerò che più o meno dico e lì sto indovinando perché non lo so supponiamo che invece il costo che io ho in fase di apprendimento perché lì il deep learning e comunque l'intelligenza artificiale ha queste due macrofasi insegno alla rete neurale e poi la uso in fase di apprendimento vedo che il risultato vero che ho stimato è molto più distante quindi c'è una distanza vettoriale ecco questo concetto di vettoriale è fondamentale perché chi ha un minimo di rudimento di matematica capisce che una distanza vettoriale complessa con tanti vettori serve un calcolo parallelo e serve una macchina vettoriale per poterlo fare rispetto a un computer e questo ha fatto la fortuna di società come Nvidia che fa delle GPU che sono delle graphical processing unit che sono nati per fare videogiochi perché la grafica funziona in maniera vettoriale come sappiamo le renderizzazioni e quant'altro di fortuna ma userei un termine anche molto più forte questi signori di Nvidia si sono trovati con un boom di intelligenza artificiale da una parte che richiede calcolo vettoriale e poi vedremo nella blockchain di hashtagging che sono le chiavi di sicurezza che richiede calcolo vettoriale quindi è ovvio che chi ha le GPU e Nvidia è il leader mondiale sia molto interessato a dire che quello è l'unico modo di fare intelligenza artificiale perché automaticamente si trova un mercato molto molto interessante torniamo a noi però c'è una differenza vettoriale che si misura differenza di x differenza di y ora il trucchetto che si usa per spiegarvi il deep learning è questo invece che usare la differenza io uso il quadrato della differenza che è la formula lì sotto il quadrato ha il vantaggio di diventare un iperbole perché questa è una funzione non lineare ma è una parabola ora in una parabola e qua poi finisce la parte più ostica di questo ragionamento qua se io non so qual è il punto di minimo che è quella freccia verde là su in cima io mi posiziono qua a caso che è quell'indovinamento che io faccio qua quando dico più o meno quello che stimo essere questo valore qua ora in questo punto qua io mi posiziono qua lo muovo di poco e vedo se vado verso il minimo quindi questo algoritmo si chiama discesa del gradiente con la retropropagazione dell'errore perché misuro che errore io ho fra il valore che ho stimato e quello che ho avuto effettivamente e retropago l'errore retropropago l'errore per poter fissare questi pesi qua questo è l'algoritmo della discesa del gradiente con la retropropagazione dell'errore che è l'unico algoritmo di partenza usato nel deep learning che è quel meccanismo di intelligenza artificiale più diffuso oggi che è stato inventato ad esempio per la teoria di controllo cioè l'Apollo 11 aveva già dei rudimenti di retropropagazione dell'errore per fare la sua traiettoria quindi dicevo che andrò in quel punto là poi per mille motivi di rotta vado un po' scostato faccio la retropropagazione dell'errore e lo rimetto in traccia quindi questo know-how questo algoritmo unico esiste dagli anni 60 ha avuto delle critiche e delle accettazioni quello che mancava era la possibilità di mettere n layer di questi pesi qua e di far convergere il gradiente in maniera più rapida quello che fa il deep learning è esattamente quello cioè sono usciti poi una serie di paper e questi sono tutti linkati che hanno fatto la fortuna di questi signori questo è Lekun che è il capo di Facebook tecnico che ha negli anni più o meno 15 anni fa riscoperto il deep learning questi meccanismi qua ci ha investito ha convinto Facebook Google e altri da investirci sono incominciate a nascere le prime vector machine che sono laggiù nei server di Google e questo è esploso con la fortuna di questo Gen Suanguang che è l'amministratore delegato di NVIDIA che automaticamente si è trovato con un mercato pazzesco da poter usufruire questo per dire che cosa ci sono dei forti driver commerciali ci sono dei forti driver di interesse specifici e in più questo discorso converge sulle immagini quindi funziona molto bene per cui cose di questo tipo che sembravano fino a ieri un po' di fantascienza in cui io live dopo aver dato migliaia di ore di video in apprendimento alla rete ha capito il concetto di pivot di movimento e di quant'altro e riconosce live da uno streaming video i player cosa stanno facendo con che percentuali di quelle percentuali che vedete là sopra la confidenza che ha la rete neurale di riconoscere quei player lì questo è stato fatto da un neolaureato dell'università di mi sembra di 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 Modena e usando TensorFlow e molti algoritmi di quegli ambienti che ci sono sui server di Google per poterlo fare quindi il fatto qua vorrei lasciarvi tre messaggi è che per fare questa cosa qua servono migliaia e migliaia di dati in input per addestrare e ottimizzare quei pesi di convergenza la seconda cosa è che è batch prima la formi e poi la quindi non hai controllo se qualcosa va male e non sanno neanche loro poi alla fine perché converge questo algoritmo e la cosa importante è che funziona molto bene in questo tipo di esercizio ad immagini e quant'altro però ecco ci sono anche dei problemi i vantaggi sono ovvi i limiti sono essenzialmente tre è asimmetrica quindi devo averci tantissimi dati per insegnarla è pesante per cui servono terabytes di dati e teraflops di forza computazionale per far convergere l'algoritmo e soprattutto è black boxed cioè non si spiega il perché riconosce e il come riconosce a quel punto lì io sono uno che guarda la partita e mi sta segnando che quello è un pivot è un valore aggiunto come consumer lo accetto non è che lo questiono se però questo mi dia una diagnostica medica mi dice che lì c'è un problema in quell'immagine se non interviene l'umano a confermare quella tesi abbiamo dei problemi quindi oggi nella parte professionale il deep learning è usato a collaborazione dell'operatore umano più che a ma soprattutto e qua volevo approfondire ancora un tema importante è che non sapendo come funziona perché converge è facilmente hackerabile cioè oggi non fa più tanto eco un paper che ti dice ho migliorato l'1% o l'2% le performance in una rete neurale deep learning ha fatto invece un eco pazzesco questo paper che è uscito l'anno scorso in cui hanno dimostrato che queste reti tanto sono performanti per riconoscere immagini video tanto le puoi facilmente mandare a gamba all'aria e addirittura ci sono dei meccanismi mentre il catastrophic forgetting come dice il tema è noto da anni per cui cosa succede io gli do un esempio fuori da quelli che lui ha preso praticamente gli saltano tutti i pesi devono riconvergere quindi si dimentica il know-how che ha acquisito guardando migliaia e migliaia di ore di partite di basket per capire i concetti di viespressi gli ultimi due invece sono molto più recenti il one pixel attacking che è impressionante è questo cioè se tu metti un rumore siccome sai come funziona l'algoritmo e guardi solo alle porte quindi non devi sapere come è fatta dentro quindi se vuoi fare qualcosa di cattivo basta che sai più o meno che l'algoritmo è usato cambiando un pixel quindi con un rumore e se qua vedete c'è il pixel questo è il pixel questo è il pixel questo è il pixel un cavallo e questo è chiaramente un cavallo da distante lo vedete meglio è stato riclassificato come cano al 70% questa macchina è stata riclassificata come aeroplano al 82% e via dicendo cioè tu con un solo pixel cambiato nell'immagine puoi far saltare l'algoritmo e capite che se incominciano a avercela con le macchine autoguidanti abbiamo un problema e non è che incominciano ad avercela adesso non ve lo faccio vedere ma questo è un link a un video dove in California stanno letteralmente sparando alle macchine autoguidanti che passano per la strada cioè sta nascendo un movimento che ce l'ha con le macchine autoguidanti non so il motivo però invece che sparargli è molto più facile quello è un esperimento all'università del Michigan dove con nastri adesivi messi in punti strategici hanno fatto saltare la discesa del gradiente perché l'ha fatto saltare invece che minimizzarlo l'hanno massimizzato cioè la famosa parabola invece che andare al punto di minimo va a quello di massimo diventa stabile insieme ad aver appreso una cosa completamente opposta e finisco la parte tecnica che su questo tema qua che però ecco il fatto che sia attaccabile bisogna saperlo bisogna saperlo bene la seconda cosa per chiudere sui meccanismi di attacco noi siamo arrivati in un era in cui i nostri in cui i nostri can make it look like anyone is saying anything at any point in time even if they would never say those things so for instance they could have me say things like I don't know Killmonger was right or Ben Carson is in the sunken place or how about this simply President Trump is a total and complete dipshit now you see I would never say these things at least not in a public address but someone else would someone like Jordan Peele this is a dangerous time moving forward we need to be more vigilant with what we trust from the internet that's a time when we need to rely on trusted news sources it may sound basic but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia thank you and stay woke bitches Allora questo è una rete neurale che si chiama GAN Generative Adversarial Network Generative vuol dire che incominciano a generare l'output invece di riconoscerlo ovvero stiamo andando verso non una realtà virtuale non verso una realtà aumentata ma una realtà generata come lo fanno sono due reti di deep learning di cui uno invece che provare a indovinare genera una nuova visione avendoci un know-how su come si muove Obama perché ha fatto vedere migliaia e migliaia di video con dei punti notevoli lui ha imparato il concetto del movimento con quel meccanismo di minimizzazione dell'errore molto più complesso di quello ma banalizzando e quello ne genera di nuovo quindi c'è una rete che genera e c'è un discriminatore che gli dice vero-falso 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 quindi fanno un gioco l'uno contro l'altro finché non vince quello che sta generando l'immagine ecco se andate a vedere quello che generano come ambientazione 3D di spazi mobili da vendere piuttosto che immagini di tessuti per il fashion quello lì è un AI marketing che oggi sta esplodendo e che probabilmente andrà a influenzare tantissimo peccato che tutto questo nasca nel deep web si parla di deep fake dove immaginate dove è stato il primo campo di applicazione di questa tecnologia nel porno per cui persone che non avevano nessun interesse a esserci sono comparsi ed è scoppiato un bubone pazzesco però alle basi diciamo è importante capire dove sta arrivando il deep learning e quindi forse va bene va bene funziona molto bene in certi casi in certi casi forse un AI più spiegabile ha senso essere non inventata ma riscoperta perché ripeto queste cose ci sono dagli anni 90 e alternative di AI ci sono dagli anni 90 cos'è l'alternativa? tra l'altro per l'IoT è molto interessante è l'opposto del deep learning cioè lo shallow learning cioè il learning senza tanti layer in mezzi di deep network batch dove tu devi mandare i dati in America per poter essere processati e imparati ma dove in mezzo tu hai soltanto un layer e fai una classificazione cioè gli dai dei dati che sono un vettore e poi gli dici in che classe è quindi di là tu hai due funzioni con i pallini verdi e con i pallini blu gli dai i valori di ingresso e gli dici il valore di output e quindi lui incomincia a creare delle classi che ovviamente possono essere anche non così marcate ma essere anche un po' più smussate come differenza e lui impara a classificare quindi se tu hai un obiettivo di classificazione e l'80% dei problemi oggi sul mercato sono problemi di classificazione tu li puoi usare con una shallow learning che ha il vantaggio di essere molto leggera quindi gira anche su un telefonino gira anche su un sensore ma non solo nel delivery perché anche il deep learning nella parte di delivery ma anche nella parte di apprendimento quindi tu puoi avere qua sopra non solo dieci sensori ma averci un'intelligenza che consuma pochi millivatt che incomincia ad apprendere che con quella combinazione di temperatura gas, radon e altro la macchina si è fermata per cui tu puoi mettere l'intelligenza sulla periferica e la puoi fare in maniera spiegabile perché questo è un if the else cioè di fatto quello che fa quella rete lì e dice if il valore di questo sensore è tra questo e quel range e quell'altro range allora succede quello che dall'altro è il meccanismo che Rulex ha implementato nella parte alta software e che invece questi sistemi di shallow permettono di implementare sulla parte edge e infine è ritrainabile se tu sei sotto attacco e devi cambiare il training non è che devi rifar girare le miliardi di immagini e rilasciare nuovamente l'algoritmo ma il retraining può avvenire live direttamente sul chip o sull'hardware di turno ora scusate tutti questi sono link dove c'è la manina verde c'è il tutorial che vi spiega lo shallow che vi spiega il deep tutta la parte più tecnica è tutta linkata ma mi sembra di essere sceso fin troppo in verticale riassumendo deep o shallow non c'è una verità assoluta se è un problema di classificazione ma ricordiamoci che l'80% è riconducibile a un problema di classificazione probabilmente lo shallow va altrettanto bene e lì vedete a sinistra e a destra il problema è che sull'immagini io devo fare della feature extraction cioè per classificare se quello è un uomo non è che gli do i pixel e lui come il deep learning impara gli devo dire alcune features tipo l'istogramma tipo i contorni gli devo estrarre dei valori perché poi lui possa classificare quindi per fare dello shallow deve avere più know-how di dominio che non è uno svantaggio perché se io sono un dottore e riesco a riconoscere malignità e sono un'università che ha un know-how sulle malignità di un certo tipo il fatto che devi saperle queste cose per darle in pasto alla rete è molto meglio di dare tutti i pixel dell'immagine a qualcosa di magico dove diventa solo un'equazione matematica quindi è un po' l'ingegnere versus matematica che è alla base di questa diatriba fermo restando che poi ovviamente se hai problemi complessi come quella sinistra ma generalisti di scene complesse il dip è imparagonabile come risultato fermo che ci arrivi vicino anche con lo sciallo ma arrivi peggio se però vai a incominciare a riconoscere oggetti a classificarli e a fare difetti di linea penso all'industria 4 quindi una mattonella rotta un'oliva con un problema di uscita dell'interno ecco questo è il classico caso dello sciallo perché io non ho miliardi di immagini di mattonelle sbagliate non posso permettermi di fare il training e rifarlo e rifarlo per ogni difettosità questo io metto una telecamera di linea che prende le immagini dopo 50 100 immagini ha imparato il difetto quindi non ce ne vogliono 10.000 e in real time mi dice errore errore va bene va bene e incomincio a automatizzare la linea di produzione quindi riassumendo l'edge AI è quello che mi dà controllo e che me lo sposta verso l'edge e me lo sposta in maniera hardware quindi è ovvio che lo shallow e l'algoritmica è emulabile ed è fattibile anche sul software ma il vantaggio è che essendo così leggero ed essendo così veloce stanno partendo tutta una serie di progetti per spostare su l'edge l'intelligenza artificiale tre quarti sono sempre deep learning quindi i google e altri non è che si fanno del male da solo cioè tengono che il training è sul cloud perché lì è dove è il loro business e poi sul delivery ci mettono solo il deep learning di delivery alcuni che sono più indipendenti come noi importiamo dall'America come No Edge General Vision che è un chipset che permette di fare shallow learning direttamente sull'edge usando l'hardware sia in addestramento che in delivery quindi mettendo quel chip lì su una linea di produzione stiamo lavorando ad esempio con l'ESAOTE di Firenze per riconoscere i difetti di saldatura delle sonde il concetto è che io ne guardo 10 vedo che c'è un difetto imparo e dopodiché non faccio passare il test alla sonda N più 1 è ovvio che l'hardware che viene implementato è drammaticamente diverso per cui ci sono degli hardware che funzionano a seconda del modello di learning e AI che si vuole implementare c'è poi un approccio come quello di Microsoft essendo qua ne parliamo un po' più a fondo che si usa invece l'FPGA l'FPGA cos'è? è un compromesso cioè non è un ASIC quindi non è un software fatto apposta per un'algoritmica specifica che è dove si giocherà la vera partita perché poi queste sono molto più veloci e performanti non è una CPU a una GPU che fa diventare ricco Nvidia ma è un FPGA che è un hardware che si può programmare quindi loro in maniera più agnostica dicono questo è un FPGA lo programmi con l'algoritmica che vuoi però è un po' superformante per tutto però è un valida alternativa per poter considerare chiudendo il discorso hardware noi come NoEdge e come MyWay la startup di cui poi parliamo in coda abbiamo fatto una scelta abbiamo scelto questo chip della General Vision che è l'unico sopravvissuto agli anni 60 quindi questa società c'è dagli anni 60 ha lavorato con IBM ha fatto le reti neurali di IBM ha lavorato con Intel ha fatto le reti neurali di Intel poi adesso che il mercato sta esplodendo e loro si stanno facendo i loro sta lavorando con ST e sta andando in Asia perché è importante sapere che la vera scommessa è fra il cloud e l'hardware intelligenza artificiale su cloud o su hardware dove gli asiatici da tigri stanno cavalcando questo mercato qua perché quello cloud l'hanno perso hanno solo Baidu che fa i miliardi ma li fa solo in Cina tutto il resto sono fuori dal mercato del cloud quindi per i cinesi e per tutta l'Asia questo è un mercato molto interessante noi abbiamo importato questo chipset e lo stiamo integrando per fare cose di questo tipo qua adesso vi dico vi faccio velocemente vedere tre esempi di utilizzo li faccio partire tutti e tre magari se solo abbassi un attimo l'audio quindi va bene così cioè vedete lì il concetto di prima io gli faccio fare l'apprendimento perché lui fa riconosce i difetti di linea li classifica quindi c'è una minima fase di setup in cui tu dici cos'è un difetto e cosa non lo è dopodiché a run time lui incomincia a riconoscere le cose e sotto e sopra lo vedete applicato cioè là è un robot che sta riconoscendo i pezzi da smistare sopra è una raccolta di caffè nelle isole Hawaii dove tutta la produzione viene smistata con una telecamera che impara il caffè e la sua qualità sono mischiati di abbassare l'apprendimento ok questo finisce l'intelligenza artificiale la seconda parte della parte trust cioè il concetto opposto non solo io devo controllare verso il basso ma come faccio a sapere che i dati che mi arrivano sono veri sono riferati sono reliable in una parola sola che è quella magica del momento trusted oggi la comunicazione in una piattaforma IoT avviene così tanti schemi in realtà quello che serve è questo c'è uno standard che si chiama MQTT che è il FOG di oggi che è il PLC di oggi il protocollo con cui ieri si parlavano i PLC oggi si parlano attraverso MQTT MQTT è un sistema di messaging dove c'è un broker al centro e c'è chi riceve e manda i segnali quindi tu in un'azienda metti questo server MQTT tutti i sensori parlano con lui e lui li trasferisce a valle ti sottoscrivi a questo servizio ricevi il messaggio un po' come un RSS stream del cloud questo è come viene fatto oggi come quelle 850 piattaforme più o meno supportano assieme ad altri protocolli ma questo non è un esempio allora cos'è il problema è che io voglio migliorare la sicurezza di quel dato lì perché un conto tra queste quattro mura è finito il mio impianto è dall'altra parte del mondo o è su una supply chain distribuita quindi io che compro il tuo pesce voglio sapere come l'hai congelato piuttosto che il tuo Moncler dove l'hai prodotto eccetera c'è bisogno di una catena di trust tutti sappiamo che oggi la catena di trust è data dalla blockchain blockchain che nasce qualche anno fa per fare transazioni fra umani con un meccanismo che spero sia più o meno chi è che non conosce la blockchain? quindi la blockchain è un meccanismo per il quale se io e lei dobbiamo trasferirci dei soldi oggi andiamo su una banca che ci fa da garante dice si cardinali deve alla signora X 10 euro ha i suoi registri e il mondo funziona così delle banche cioè un trusted che è la banca che peccato a volte fallisce peccato fa dei marmelli e peccato tutti ci sta facendo pagare delle commissioni pazzesche l'idea di blockchain è quella che io e lei ci mettiamo d'accordo io mi scambio una chiave con lei dopodiché il fatto che io devo a lei dei soldi magari poi lei le deve a quello di vicino a lei viene messo su un ledger cioè su un database che non è più nell'archivio della banca ma tutti ne abbiamo una coppia lei dirà ma come facciamo averci miliardi di coppie di miliardi di dati parlando di informatica che viaggia alla velocità della luce e che ha una rete infinita di nodi HTTP questo è fattibile e di fatto chi se l'ha inventato che è un fantomatico non si sa se esistente nome giapponese ha messo su questa infrastruttura che ha un grosso difetto per poter essere sostenibile il fatto che io e lei facciamo questa transazione e viene aggiunto alla catena si sono inventati un concetto di algoritmo matematico da risolvere che si chiama un hashtag cioè quindi viene risolto un algoritmo che mi dà il diritto di poter agganciare questo nodo ora per essere sostenibile questa cosa diventa sempre più complessa e chi lo fa questo computo viene pagato con dei bitcoin che sono poi la stessa moneta che viene trasferita questo andava benissimo per le transazioni finanziarie fra umani e ci sono i suoi ups and downs dovuti più al mercato ma l'idea è molto buona e c'è chi scommette anche molti soldi che prima o poi ripartirà come era partito qualche mese se non anno fa ha due grossi problemi per il meccanismo matematico che sottende a parte che viene fatto e risolto con le GPU quindi il signore tailandese di primo oltre a diventare miliardario per l'intelligenza artificiale è diventato iper miliardario perché qualche anno fa tutti correvano a comprarsi le GPU grafiche per diventare dei miners e guadagnarsi dei bitcoin quindi c'è chi ha degli interessi che il meccanismo rimanga di quel tipo lì il problema sono essenzialmente due non è scalabile perché in realtà più si aumentano più diventa pesante quindi il riconoscere che io a lei devo dei soldi ci vuole anche 30, 50, 60 secondi oggi e anche dei minuti perché da un'altra parte della catena si è riconosciuto in una transazione finanziaria non è un grosso problema perché non è che le do i soldi per poi riprenderli su quindi questa latenza è accettabile l'altro grosso problema è che non è gratuito come ho detto prima ci sono i minatori che si fanno pagare quindi ogni transazione ti costa dei soldi dei signori che sono questi due signori qua più o meno cinque anni fa mi sembra tedesco e svedese David Sonstable e Dominic Schiner si sono inventati un nuovo meccanismo che non è una blockchain ma un tangle ovvero sia un intreccio là c'è un'ottima visualizzazione grafica che è un grafo aciclico diretto cioè cosa permette di fare? permette di agganciare 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 nodi senza che ci sia un circuito chiuso e diventare una ragnatela infinita che si estende questa è una formula matematica quindi di nuovo ci vuole un know-how matematico per capirne la differenza ma intuite subito che c'è un'enorme potenzialità il fatto che è scalabile perché l'algoritmo diventa sempre più potente tanto i più oggetti ci sono è gratuito perché per agganciarne uno nuovo non fanno pagare i miner ma di fatto basta che un utente che è anche il validatore quindi non è disaccoppiato come nella blockchain per aggiungere un nodo ce ne validi altri due e soprattutto è fatta per l'IoT quando loro le hanno pensato non era per transazioni fra umani ma per vendere i dati IoT quindi la visione che loro hanno avuto ha detto ok fra poco ci saranno 50 miliardi di macchine collegate a internet se io voglio vendere quei dati dati di temperatura dati di sensori dati di telecamere voglio fare un marketplace un meccanismo di dati sicuri vendibile che sia distribuito e non sia nelle mani del grande fratello che ha la piattaforma IoT di turno questo oggetto qua è diventata la quarta moneta ha capitalizzato 12 miliardi di valorizzazione quando è stato lanciato sta prendendo milioni di euro dalla comunità europea perché sono europei sono tedeschi hanno dietro Porsche Mercedes Bosch Candy hanno dietro i grossi player industriali tutti che ci stanno investendo perché per loro questo è il cloud è l'internet del futuro e lo dicono quei nomi di prima non lo dicono né questi signori né il sottoscritto siccome questo è importante un breve video che ve lo spiega meglio di come ho fatto Iota is a third generation cryptocurrency with a distributed ledger that makes use of directed acyclic graphs as opposed to blockchains this makes Iota fundamentally different from almost every other cryptocurrency and eliminates most problems associated with them so today we are going to discuss three things that we think everybody should know about Iota we hope you enjoy this short video and stay tuned to the end to learn how you can enter our Iota giveaway sponsored by RuviTag the first and most important thing that everyone should understand about Iota is that it is scalable scalability by definition is the capability of a system network or process to handle a growing amount of work this means that the Iota network can handle increased volume without slowing down or failing in fact Iota scales proportionally to the number of transactions that are being made the more people that use the network the faster and stronger it becomes this puts Iota worlds ahead of most blockchain crypto that instead becomes slower or unusable during periods of increased traffic the next thing that everyone should know about Iota is that it is free to use in most blockchain based cryptocurrencies users and validators are pitted against each other the user wants a cheap fast and secure transaction while the miner wants the largest possible fee this creates conflict in the network without sufficient fees miners have no incentive to run costly mining rigs and without miners blockchain doesn't work to solve this conflict the user and the validator in Iota are no longer separate entities instead the user's device performs the validation function when a user makes a transaction in Iota that device must verify to pending transactions in order to be processed itself this process is secure quick and effortless at the end of the day because the user and the validator are the same there are no fees to pay making Iota completely free to use finally the last important thing to understand about Iota is its purpose Iota was made to be implemented as the backbone of the internet of things known as the IOT put simply the IOT is the interconnection of all internet connected devices there are billions of such smart devices in the world already and as the IOT expands this number is only increasing we are moving towards what will be known as a machine-to-machine economy where smart devices will communicate settle payment and trade data autonomously this is where Iota presents itself as the basic infrastructure where data and value exchange with IOT devices can occur instantly and securely in a decentralized fashion Iota is not only the first but the only cryptocurrency currency or protocol that is capable and optimized to support a machine-to-machine economy well that concludes our video on three things we think everybody should understand about Iota we hope you enjoyed this short video and if you have an all ok l'ha spiegato meglio di me gratis scalabile e fatta per IOT questo è perché le aziende hanno fatto un salto a pesce dentro questa tecnologia i nomi sono impressionanti li vedete a destra c'è un annuncio al giorno questo è l'annuncio di Volkswagen pochi mesi fa questo è l'annuncio finto in realtà poi non era finto ma l'hanno tutte e due negato perché ci stanno lavorando di Microsoft nel 2018 è uscita la notizia che Microsoft avrebbe sposato a pieno Iota questa è la criptovaluta il picco che ha fatto quel giorno lì quindi è un gioco attualmente di annunci per fare anche muovere la moneta in realtà il fondamento è molto più solido di quello che si diceva prima che è questo MQTT con una struttura fatta di piattaforma IOT perché il concetto che è importante capire è che questo Tangle questo intreccio è soltanto la base un po' come il TCP IP nell'internet sopra stanno incominciando a nascere altri protocolli per cui adesso che io ho il Tangle non ho un oggetto che parla col cloud centrale ma un sensore come questo manda i dati su Tangle e dall'altra parte un PC può leggere un palmare può leggere questi dati senza passare da cloud poi adesso non c'è tempo ce l'abbiamo abbiamo fatto un applicativo dove la temperatura il girostato la pressione è misurato da questo io lo vado a vedere su un palmare ma non è passato sul cloud server di una terza parte cosa me ne frega voi direte se siete un grande fratello che fa tutto in casa probabilmente poco anzi probabilmente c'è una curva di apprendimento che non giustificherebbe l'interesse ma voi siete un broker elettrico siete l'ABB piuttosto che siete qualcuno che fa contatori e sapete che è un mercato fortemente dinamico in cui tu offri energia dall'altra parte la comprano se tu sei il broker in mezzo il fatto di avere certificato il dato e far parlare fra di loro il consumo e la generazione di energia parlando con i macchinari è un valore enorme infatti il mercato elettrico e delle macchine elettriche infatti tutte le automotive ci sono tutte sono su questo meccanismo per il discorso di transazione e di quant'altro inoltre è una community fortemente monetizzata per cui stanno sviluppando nuove cose e per chiudere il discorso Iota ci sono tre cose molto interessanti che sono spiegate in questo altro video di due minuti che è quello su cui stanno lavorando adesso i smart contracts che forse chi è che sa cos'è uno smart contract lo smart contract che su blockchain è famoso ma che ha tutti i problemi sottostanti della blockchain di lentezza di crescita eccetera qua li stanno implementando non ci sono ancora ma stanno arrivando due cose che però hanno loro in questo nuovo sviluppo che si chiama Cubic che è sopra Iota e che fanno anche calcolo distribuito cioè non solo il nodo manda il dato e l'altro lo riceve ma ognuno di questi sensori diventa una piattaforma di calcolo distribuita per cui il concetto è che non c'è più un server con dei cloud farm ma tutte le macchine lavorano per fare questo scenario qua che poi viene distribuito Iota's Cubic we first need to understand smart contracts oracles and distributed computing smart contracts are digital agreements that abide by pre-programmed rules and do not require any external authority to make a decision the contract can determine when a condition has been met after which it can fulfill itself next we have oracles an oracle can be thought of as a lens that provides the tangle with data from the world this data can be anything a stock price a score of a sports game or a reading from a sensor oracles simply collect information and bring it back to the tangle it's worth noting that oracles will help smart contracts become even smarter by resolving events outcomes or conditions set in a contract that could not be known while being made for example you and your friend could place a bet on the outcome of a basketball game once initiated the smart contract will lock the funds until after the game at which point it will use an oracle to retrieve the score and proceed to pay the winner oracles can and will have many uses stable and commodity backed coins gambling insurance mortgages financial derivatives and e-governance are just a few sectors that can improve with the use of oracles lastly distributed computing is when a group of computers all operate as one system they work as a team to solve complex problems quickly and affecting is especially important when it comes to low power smart devices because it allows them to outsource complex computations that they cannot do on their own however distributed computing has its own challenges there is currently no incentive to operate or participate in a distributed computing network as there is no payment system capable of facilitating the microtransactions involved with trading data however with Qubic on the way IOTA just might have the solution now that we have a basic understanding of oracles smart contracts and distributed computing we can tackle Qubic Qubic is a protocol but not just any protocol it's IOTA's solution for what is known as quorum-based computing so what is a quorum-based computation well just as in politics a quorum is the minimum number of votes necessary in order for an action to be granted in the case of oracles quorum-based computing ensures the data an oracle collects is true preventing bad actors from cheating the system moreover Qubic is written in its very own code ABRA which is an intermediate trinary-based programming language it helps by creating a safe environment to communicate with the outside world but Qubic doesn't stop there as it also layers in a powerful distributed fog computing platform optimized for building complex IOT applications these feats will surely prove to be revolutionary especially when considering that together IOTA and Qubic open the door to new types of smart contracts that can enable the collection of micropayments in real time lastly Qubic provides a reward system that incentivizes honest participation in the Tangle yes a way to help the Tangle and earn IOTA for it ultimately Qubic is more than a protocol for quorum-based computations it's the pathway to true solutions for smart contracts oracles distributed computing and so much more well that's it for this one we hope you enjoyed our brief explanation of Qubic questo è il futuro di IOTA il presente si ci stanno buttando parecchi adesso non ci abbiamo tempo ma come vi dicevo questo oggetto qua vedo giusto velocemente per farvi vedere tutti i dati che riesce a raccogliere vengono pubblicati take an ordinary device and enable it to sense its environment make it connected make it smarter at Bosch our answer is the XDK a fully integrated hardware and software development platform that can give you the data you need to build your better device better product better machine the XDK is an easy to use turnkey development kit that's designed to quickly connect your machine or device prototype to the internet of things with the XDK you have hardware covering 8 internal sensing parameters along with the full software platform for fast programming and configuration of your proof of concept even users with minimal programming background can pick up the XDK and start using it quickly leveraging our simple non ci abbiamo tempo ma è molto veloce prendere quel sensore lì buttare i dati su Tangle e averci dall'altra parte un visore che va a leggere col famoso meccanismo MAM che abbiamo visto prima dell'oracolo i dati e te li visualizza senza usare cloud senza usare un'architettura di tipo piattaforma IoT che abbiamo visto prima uno scenario un po' più futuribile è quello delle macchine elettriche dicevo prima dove c'è l'intermediazione quindi da una parte c'è chi produce energia dall'altra parte c'è chi la consuma il mondo andrà sempre di più verso microgrid e trading veloce di energetico anche qua non so se abbiamo tempo ma molto velocemente questo è fatto dal leader olandese di macchine elettriche che sta usando Yota per pagare i consumi delle macchine elettriche qui non so se è giusto we are at the ELAT premises in Arnhem and we are now at the test lab of ELAT which is used for testing charge stations and electric vehicles this is the world's this is the world's payments from card to charger using just a cable and it doesn't require any R4D card or any subscription it just uses Iota Iota is a cryptocurrency and the protocol the cryptocurrency you can think of as it is used in Bitcoin for example and the protocol is much broader so you can also use it for data transportation data integrity and data security Bitcoin is in this case not suitable because it requires a lot of fees to do a transaction and Iota is free of charge so that makes it great for using it in these kind of use cases and the most unique part here is that you can have real e per chiudere venendo a noi questo è il edge server che stiamo facendo per Industria 4 e per i desktop dei professionisti che a bordo c'ha l'intelligenza artificiale shallow di quel chipset che avete visto nella prima parte della presentazione c'ha una scheda per collegarsi a Iota per trasferire i dati e anche gli algoritmi e infine c'ha una piattaforma locale per il riconoscimento vocale lo stiamo applicando con un marketplace di varia natura sia industriale che healthcare per distribuire algoritmi e fargli riconoscere immagini mediche e o pattern di malfunzionamento di macchinario tutto non passando dal cloud ma passando da una rete sicura blockchain time stamped garantita con i suoi dati e usando tutta l'intelligenza sulla piramide che poi in chiusura lo potete vedere là in fondo e tutta la computazione avviene in locale questa è la piramide adesso qua non si legge niente ma il concetto è come uno smart speaker a casa gli dite le cose oggi con Google Home e con Alexa il concetto è che questo sulla scrivania di un dottore gli dice hey my way fammi vedere quella radiografia del paziente X per favore classifichamelo fammi un report sì lo vedo lo annoto dopodiché lo pubblico sulla blockchain in modo che il referto sia certificato e assicurato la stessa cosa in ambito industriale invece c'è un difetto che avviene sulla linea di produzione il manager ne chiede il resoconto all'edge il quale gli risponde gli manda sul tablet il difetto viene riconosciuto classificato e postato sull'edge per poter avere la sicurezza del dato e della tracciatura del difetto o meno che viene riscontrato il team è a disposizione poi se volete parlarne in maniera approfondita e sembrano cose molto futuribili ma l'ultima slide vorrei dire che non possiamo risolvere i nostri problemi futuri se continuiamo a usare la mentalità di oggi e del passato con cui abbiamo fatto queste cose grazie non so se ci sono delle domande sulla blockchain magari le prendiamo un attimo